All'alba del venerdì 13 ottobre 1307, le truppe del re di Francia Filippo IV, il Bello, si presentarono ai portali di tutte le residenze templari all'interno del regno. Portavano con sé un atto d'accusa emanato dall'autorità dell'inquisizione su richiesta del sovrano francese, ordinando il fermo degli occupanti all'interno delle loro dimore. Così ebbe inizio un lungo processo, protrattosi per sette anni, che avrebbe segnato la fine dell'ordine religioso e militare più potente del Medioevo. L'ordine di arresto formulava gravi accuse contro la morale religiosa dei templari. Si affermava che ogni nuova recluta, all'ingresso nell'ordine, doveva rinnegare Gesù Cristo, sputare sulla croce e baciare il precettore sul sedere. Inoltre, si aggiungeva che i superiori costringevano le reclute ad accettare avance sessuali da parte dei confratelli, e si diceva che i capi dell'ordine custodissero un idolo misterioso, raffigurante la testa di un uomo barbuto, oggetto di venerazione da parte di tutti i templari, e che portassero una cordicella consacrata ai fianchi a contatto con esso. Tutti gli accusatori avevano tessuto un intricato castello di accuse, unificandole in un unico macchinato affronto che giustificava l'azione dell'inquisizione. Queste accuse ombreggiavano il sospetto che i templari, pur appartenendo a un ordine della chiesa, seguissero segretamente credenze religiose in contrasto con la fede cristiana. L'ordine di arresto, firmato dal sovrano circa un mese prima, il 14 settembre, era solo il culmine di anni di raccolta di indizi, pettegolezzi e testimonianze, orchestrati dall'avvocato reale Guillaume de Nogaret. Questi indizi inchiodavano i membri dell'ordine a una colpa imperdonabile per l'epoca, l'eresia. 12 spie, secondo le dichiarazioni dello stesso Nogaret, erano state segretamente infiltrate nell'ordine per vivere con i templari, raccogliendo ogni possibile informazione utile per diffamarli. Durante gli interrogatori successivi all'arresto non fu difficile, anche grazie all'uso della tortura, estorcere confessioni da più prigionieri, le quali confermavano le accuse, ma in realtà erano spesso il frutto di vendette contro superiori prepotenti o sgraditi, dai quali li imputati avevano subito ingiustizie. Come religiosi e membri di un ordine della chiesa, i templari affermavano di rispondere solamente al papa in materia giudiziaria e a nessun'altra autorità. Tuttavia Guillaume de Nogaret trovò il modo di aggirare questa immunità giuridica. Egli fece leva su un antico decreto di papa Onorio III, datato quasi cent'anni prima, che permetteva agli inquisitori di investigare persino sulla moralità dei membri di ordini religiosi esenti come i templari, gli ospitalieri e i cistercensi, nel caso sospettassero deviazioni dalla fede, cioè l'eresia. Questa, quindi, era l'unico peccato capace di superare le mura invalicabili dell'immunità detenuta dai templari e l'unica accusa valida per giustificare l'intervento dell'inquisizione. La ricerca del fondamento giuridico, rappresentato dal decreto papale, evidenzia un approfondito esame dei documenti legali che ha preceduto l'attacco. Nogaret ha dedicato altrettanta attenzione a comprendere i meccanismi dell'inquisizione, l'arma che avrebbe utilizzato per mettere i templari sotto processo. Alcuni mesi dopo la cattura, il capo dell'inquisizione in Francia, frate Guglielmo di Parigi, fu sospeso da Papa Clemente V per abuso di potere, poiché le sue competenze non li consentivano di autorizzare l'arresto di massa dei templari. Il Domenicano si giustificò dinanzi al pontefice spiegando di avere messo un mandato per indagare su specifici individui sospettati di aderire a dottrine eretiche, non su tutti i membri dell'ordine. In sostanza, l'inquisitore ammise di essere stato ingannato da Nogare, il quale evidentemente conosceva i limiti entro cui poteva muoversi per attuare la sua strategia. Un'altra circostanza significativa nei documenti, che denota una preparazione accurata dell'attacco, risale a poche settimane prima dell'arresto, il 22 settembre 1307. In quel giorno il Consiglio del Re si riunì nell'abbazia di Pontois, da cui Guillaume de Nogaret uscì con la nomina di guardasigilli, la più alta carica del regno in materia giudiziaria, esattamente l'autorità necessaria per impartire ai soldati reali l'ordine di catturare i cavalieri in tutto il regno. Ogni mossa fu pianificata con cura in anticipo per seppellire i templari, nonostante la loro reputazione, sotto una valanga di accuse infamanti. Il fulcro dell'accusa ruotava attorno al presunto rinnegamento della fede cristiana, basato su un rituale segreto di iniziazione praticato all'interno dell'ordine per testare l'obbedienza dei novizi. Coloro che aspiravano a diventare templari dovevano dimostrare di essere disposti a obbedire completamente, un requisito imprescindibile per le operazioni belli che contro i saraceni in terra santa che richiedevano una disciplina ferrea. Dopo aver compiuto il rituale religioso, che comprendeva la professione dei voti, il novizio veniva condotto in un luogo separato della chiesa, spesso la sagrestia. Qui, dopo aver giurato totale obbedienza ai superiori e di sopportare le rigide regole del tempio, li veniva chiesto di rinnegare Gesù Cristo, sputare sulla croce e baciare il deretano del superiore. Questo test mirava a valutare la reazione del novizio di fronte all'ordine, nell'eventualità di dover compiere azioni così riprovevoli dopo aver promesso di sacrificare persino la propria vita per difendere la fede. I primi due atti imitavano le crudeltà inflitte ai cristiani catturati in terra santa, costretti a scegliere fra rinnegare Cristo o morire. Il bacio sul deretano del superiore, spesso eseguito attraverso i vestiti, rappresentava un atto di sottomissione del novizio, evidenziando la sua completa dipendenza dai membri più anziani dell'ordine. Nell'atto d'accusa redatto da Nogaret, queste pratiche furono distorte per insinuare che i templari fossero coinvolti in atti omosessuali, associandoli anche all'idea che alle reclute fosse raccomandato di non negarsi qualora i confratelli volessero avere rapporti sessuali con loro. Lo scopo era diffondere lo scandalo e alimentare l'opinione pubblica con l'idea che l'ordine fosse corrotto da immoralità e depravazione. Non tutti i templari confessarono le accuse elencate nell'ordine d'arresto e molti le negarono anche sotto tortura. Tuttavia, l'impatto delle confessioni estorte, che ammettevano tali pratiche, fu devastante per la reputazione dell'ordine. Questa strategia diffamatoria aveva accuratamente predisposto il terreno per conseguire tale risultato. Prima ancora dell'inizio dell'operazione di arresto del 13 ottobre, coppie di frati francescani e domenicani furono dispiegate dall'inquisizione in tutte le regioni del regno per diffondere la propaganda sull'immoralità dei templari. Le loro parole erano mirate a penetrare nei cuori e a scandalizzare i fedeli. L'obiettivo era preparare il terreno affinché, quando sarebbero emerse le testimonianze dai successivi interrogatori, la gente fosse già predisposta ad accettare l'idea di un'eresia diffusa fra i frati guerrieri. Gli ordini religiosi e i nobili stessi favorivano l'ordine del tempio. Le persone comuni donavano generosamente al tempio, mentre le famiglie nobili arruolavano i loro figli cadetti fra le sue fila, spesso dotandoli di proprietà terriere. Molte persone desideravano essere sepolte nelle chiese templari per godere dei benefici spirituali derivanti dalle preghiere dei templari durante le cerimonie liturgiche. Questo portava all'ordine non solo terre e ricchezze, ma anche prestigio e credibilità. Era proprio questa legittimazione morale che la strategia diffamatoria orchestrata da Nogaret mirava a distruggere. La manipolazione dell'opinione pubblica fu studiata attentamente per adattarsi alle credenze e alle mentalità prevalenti nelle diverse regioni del regno. Si condusse un'analisi approfondita delle varie culture locali per assicurarsi di colpire la sensibilità delle persone nel modo più efficace possibile. Ad esempio, a Parigi, dove l'omosessualità era considerata un crimine grave, si sfruttò la memoria dello scandalo che aveva coinvolto la famiglia reale alcuni decenni prima. Quando il re Filippo III, soprannominato l'ardito, fu accusato dalla sua seconda moglie, la regina Maria di Brabante, di avere un amante uomo, il segretario reale Pierre de Labrosse, si scatenò uno scandalo che gettò un'ombra di sospetto su tutti i figli di Filippo III. Questo sospetto venne sfruttato dagli oppositori politici di Filippo IV, il bello, per minare la sua autorità e mettere in dubbio la sua legittimità al trono. Il vizio sodomitico rappresentava un tabù a Parigi e Nogaret decise di porre particolare enfasi su questo punto durante gli interrogatori nella città, anche se andava contro la logica. Secondo la dottrina cattolica, infatti, la sodomia era considerata un peccato carnale, ma non era direttamente collegata all'eresia. La strategia diffamatoria mirava a scardinare il mito dell'eroismo templare, suggerendo che uomini depravati da tale vizio potessero essere inclini a commettere qualsiasi tipo di peccato. A Parigi, gli interrogatori dei templari imprigionati si concentrarono sui presunti baci indecenti inclusi nel cerimoniale d'iniziazione. Nella Francia meridionale, invece, l'omosessualità era considerata con maggior tolleranza, sebbene fosse comunque condannata dalla morale religiosa. Pertanto, giocare la carta del vizio sodomitico non sarebbe stato sufficiente per danneggiare la reputazione dei templari o il rispetto che la gente nutriva per loro. Di conseguenza, l'accusa si focalizzò su altre presunte colpe. Nella lingua d'oca, dove l'inquisizione aveva la sua base, si verificarono grandi violenze sociali all'inizio del XIII secolo durante la crociata degli albigesi contro l'eresia catara. Durante gli interrogatori in questa regione emersero elementi collegati alla magia e alla stregoneria, come il sabba delle streghe e l'evocazione del demonio sotto forma di gatto. Questi aspetti non erano emersi durante gli interrogatori nel nord del regno, ma potevano essere utilizzati per accusare i templari di eresia. L'obiettivo principale della strategia non era quello di scoprire la verità, bensì di instillare nelle menti delle persone l'idea che i templari fossero estremamente corrotti. Se l'ordine fosse stato risparmiato, la corona di Francia avrebbe dovuto restituire l'ingente somma di denaro che aveva preso in prestito dal tempio per evitare la banca rotta, un debito che non poteva assolvere. Durante il concilio di Vienne, tenutosi fra ottobre 1311 e maggio 1312, Papa Clemente V e gli altri conciliari avevano riconosciuto la schiacciante supremazia militare e politica di Filippo il Bello. Sebbene il Papa avesse desiderato segretamente la sopravvivenza dell'ordine del tempio, fu costretto a cedere alle pressioni reali. La bolla Vox in excelso confermava che non vi erano prove sufficienti per l'accusa di eresia, ma l'ordine dei templari sarebbe stato comunque soppresso nell'interesse superiore di proteggere la Chiesa.